Una nomina che proprio non è andata giù ai candidati sindaci del PD delle scorse amministrative. Scontata la contrarietà del sindaco di Erice, Daniela Toscano, che si era trovata sulla sua corsa dopo avere vinto delle faticose primarie, un competitor della sua stessa aria che avrebbe potuto drenare quei voti necessari a sfondare al primo turno. Infatti l'ex di Essina ha sottolineato, nella nota di ramata subito dopo aver appreso della nomina, come quella della Virgilio, sia una scelta sbagliata che non guarda agli interessi dell'aeroporto ma alle prossime vicende elettorali di un presidente ormai isolato. Ciò che risulta incomprensibile, soprattutto deleterio, continua la Toscano, durissima, è l'idea che Crocetta abbia del CDA di una società come l'Aergest, non riuscendo a superare la vecchia logica clientelare del sottogoverno, auspicando che la politica del territorio e del suo stesso partito facciano sentire la loro voce. Scontati i commenti negativi dei senatori Dalì e Sant'Angelo, per il parlamentare azzurro la regione continua a dimostrare incoscienza, trascuratezza ed incapacità, mentre il grillino si sofferma sul fatto che l'aeroporto di Birgi, anziché decollare, rimane fermo, malgrado le enormi potenzialità attrattive. Meno scontata la presa di posizione di Pietro Savona, candidato sindaco di Trapani, politico felpato e assai più vicino all'area del governatore per la sua amicizia personale e politica con l'onorevole Baldo Gucciardi, che ha certamente avallato la nomina della Virgilio, sponsorizzata dal suo governatore e dal senatore Lumia, con cui l'assessore alla salute ha ottimi rapporti ed è sempre stato interpellato dai due quando c'era da indicare figure istituzionali nei vari sottogoverni in provincia. Ed infatti Savona schematizza nel comunicato di ieri il ruolo del PD e dell'appartenenza ad un partito, che dovrebbe avere come stella polare quella della militanza e della coerenza, sottintendendo tutto il contrario di quello dimostrato dalla Virgilio in questi anni. E non per essere premiati per l'appartenenza ad una fazione chiosando con un liberi tutti, se queste sono le nuove regole. Noi lo abbiamo sentito stamattina. Fermo il restando che non è un attacco alla persona, Daniela Virgilio avrà tante capacità, tante professionalità, ma l'Airgest è uno degli asset più importanti della provincia di Trapani, parliamo di turismo, parliamo di trasporti, quindi quello che ci si aspettava era una nomina importante, una nomina professionalmente qualificata e ritengo che non ci siano queste caratteristiche nella figura dell'attuale incaricata, cioè di Daniela Virgilio, solamente questo. Sì, il PD obiettivamente l'idea che traspare è quella che basta fare parte di una componente che ti tutela e che uno può fare quello che vuole, questo è sbagliato, bisogna recuperare il rapporto con gli interessi della società, della gente, e dare un criterio anche nella designazione delle figure che vanno a occuparsi della cosa pubblica. Questo credo sia fondamentale, questo è quello che io penso, l'ho detto liberamente. Dopodiché se Crocetta o altri hanno intenzione di andare avanti in questa direzione, credo che raccoglieranno male.